Emma, ci vuoi raccontare il buon governo del centro-destra nelle regioni italiane? In questo momento l'Italia è chiamata a vincere una grande battaglia, vaccinare quanti più cittadini possibile nel più breve tempo possibile, perché dobbiamo sconfiggere il Covid-19. Purtroppo vediamo che molte regioni non sono per niente virtuose e tra l'altro la maggior parte di queste sono tutte governate dal centro-destra. Una di queste è l'Umbria, la mia regione, dove domenica abbiamo assistito a una scena a quanto anomalo. Infatti domenica mattina l'albo degli avvocati ha inviato un sms ai suoi iscritti. invitandoli a presentarsi ad un punto di vaccinazione. Ecco, questo nonostante che anziani, fragili e i loro parenti non sono ancora in attesa. Questo ha creato molti malumori tra i cittadini. Ecco, io invece vi voglio raccontare il caso di Cremona, la mia provincia, ma che è capitato anche in tante altre province della Lombardia, nella gestione della campagna vaccinale. Tre giorni fa ero al centro vaccinale proprio della città di Cremona che era vuoto. Sapete il perché? Perché la regione, non i medici e infermieri bravissimi, competenti dei veri eroi, ma la gestione politica attraverso una società che si chiama Ari e che è stata fortemente voluta dalla Lega non è stata capace di mandare gli sms, gli sms alle persone che si dovevano vaccinare e quindi non si sono presentati. Questo non è un esempio, non è un caso isolato. Questo è proprio il modello della gestione politica della Lega di Salvini, di Forza Italia di Berlusconi, di Fratelli d'Italia e della Meloni che governano. È il loro modello totalmente fallimentare. Quindi è chiara una cosa per il bene dei cittadini che abitano nelle regioni non solo della Lombardia, ma in tutte le regioni governate dalla Lega e dal centro-destra, che avete visto essere ultime nella campagna vaccinale. L'unica strada per la sopravvivenza nostra che abitiamo in quelle regioni è che intervenga a sostituirsi completamente alla gestione politica di questi incapaci la struttura commissariale e la protezione civile. È l'unica soluzione, altrimenti saremo gli ultimi, avremo problemi di salute più delle altre regioni italiane e grossissimi problemi nella ripresa economica.